Ma davvero? Io non lo so, c'è quanto vuoi. È preso da un salmone che cambia colore. Ma tu mi stai prendendo in giro. Allora Marti, abbiamo una nuova bici. No! Come ti trovi? Bene, sono molto contenta della nuova bici. L'abbiamo provata anche assieme. No, però la prima sensazione che hai è che sia un po' proprio la tua bici, no? Ti senti proprio subito a tuo agio con la bici. Per cui dai, sono contenta. Quindi secondo te cosa è cambiata dalla bici rispetto a quella vecchia? Diciamo che le sensazioni migliori le ho trovate più sul pedalato rispetto alla parte in discesa. Nel senso che col VPP non era facilissimo regolare l'ammortizzatore. Per cui sul pedalato sinceramente io mi trovo molto meglio con quella nuova. Sfonda molto meno quando apri le sospensioni e soprattutto quando le tieni chiuse mi sembra che il telaio assorba molte più vibrazioni. Non so se anche tu hai avuto questa sensazione. Sì, proprio uguale. Quindi a te ti manca un po' il sistema vecchio, diciamo, in discesa soprattutto? No, sinceramente mi sono trovata talmente bene subito all'inizio. Proprio il primo giro che ho fatto mi sono trovata talmente bene che ho detto ok. Poi se trovi il tuo setting ancora meglio. Per cui secondo me per una bici da cross country ci sta. Anche per il VPP mi sembra che sia un po' più... Soprattutto da gara. Esatto, esatto, da gara. Poi il VPP è un po' più da enduro forse. Non vorrei sbagliarmi ma mi sembra giusto. E colore ti piace? Tantissimo. È bello il salmone, no? Perché colore salmone? Non lo sappiamo. Dobbiamo ancora trovare una risposta. Magari qualcuno ce l'ha. Chiediamo l'aiuto del pubblico. Così al salmone perché? Possiamo fare la chiamata a casa.